Ciao a tutti, oggi facciamo preparare un bellissimo caccia di lava caccia di chocolate. Prima di tutto, dobbiamo mettere il chocolate sulle tappe di acqua di acqua. Una volta che il chocolate sia smeltato, aggiungiamo la batteria di salto. E stiriamo fino a che tutto sia molto bene incorporato al chocolate. Ricordate che questa ricetta è per 32-32 chocolate lava cake. E poi aggiungiamo il zucchero un po' a un tempo. Una volta che il zucchero sia incorporato, aggiungiamo la farina e ripetiamo la stessa cosa. I transferto tutto all'interno 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 con l'abbiamo attaccato, quindi sarà più facile da aggiungere gli occhi in il chocolate. In meantime, facciamo preparare con l'alluminum cup, o ramekens, con un po' di batteria e un flore. E' un po' di batteria e il fanno in un po' di batteria. Con l'abbiamo in un po' di batteria e la ramekens, e c'è un po' di batteria e la ricetta. E' un po' di batteria e la ricetta. Per quanto riguarda 9-10 minuti, e' un po' di batteria e la ricetta. Grazie a tutti, ragazzi, vediamo la prossima per la ricetta. Non dimenticate di subscribeare a mell'e channel. Ciao! Really good.